musica musica Kim posso spiegare cosa faremo in questa live? ah spero partite solo carro armato loro faranno partite solo carro armato io mi farò saltare in aria siamo abbiamo il carro armato e l'isis il carro armato e le esplosioni i talebani siamo l'isis i carri armati e i kamikaze si esatto ora vediamo se ho qualcosa tipo tipo isis te pensi alle cure cioè porta più cure che puoi tra mediche, cildini, cildoni, cazzincule e altro go te pensa alle fiamme ossidriche portane più che puoi almeno tre tre filati tre io penso alla benza magli magli ho già la skin perfetta da metterti per te mettiti schimpanski è vero io sto sulla torretta mi chiamo torretta la breve mica sai chi sono? come cazzo si chiama quello la di Metal Gear Solid snake snake guarda sono snake snake tarocco snake poi come zaino mettere qualcosa di guerrier è questo zaino arroio è perfetto no è buono no go non pure tu buongiorno che è entrato in live buongiorno ecco bravo ok ho trattato la skin da talebana perfetto ho paura di vederla perfetto questa sicché è una bella squadra si beh nessuno c'è tra un cazzo l'un con l'altro però vabbè quelli sono i dettagli ok siamo uniti dal cuore dall'amicizia eh la Toschina è quella che c'entra di meno come sarebbe a dire che c'entra di meno è di questa season come ti permetti ho capito ma dico che è quella che c'entra di meno quel gruppo scusa allora allora ho un'altra idea io sono l'assassino e allora sai cosa ci va di devastazione aia sora brutto testa di minchia ci va di devastazione aia sora testa di minchia posso metterlo scienziato vai vai metti lo scienziato no è peccato che non abbiamo tutti le robe degli sette sennò potremmo fare la storia degli sette ragazzi sono la roccia ho trovato la skin perfetta io sono un cazzo di armadio e quella è bella l'ho presa un botte di tempo fa così sono otto uscita ma io vedo questo squadroni da spazzare mi sembra veramente una dell'isis di obono guarda il mio cristo io ho tutto mascherato una tipa dell'isis di obono per caso che non puoi mettere l'isis nel titolo perché te lo bloccano il canale no è diverso venite qua abbraccio per partita abbraccio dell'isis abbraccio dell'isis abbraccio dell'isis spazi no no io vado adesso andiamo a spazio spicy puttana devi notare il sole io raga faccio come il generale uso solo la pistola non è vero voglio la mitraglietta io voglio la mitraglietta raga ora ma la mitraglietta era combattimento quant'è figa oh yeah è buono oh c4 il sole mi vuole bene dai che mi sono a fianco quando giro col veicolo sottosivo capito sai che tu devi mettermi le c4 e stare non dentro il canarmato ma io devo stare sulla torretta da poco ma e allora devo dare la go e lo dai go che go sta sul sedile del passeggero chi cazzo che deve tenere le c4 della squadra io ogni ora la tengo io le c4 vabbè sai cosa facciamo così io tengo la fiamma ossidrica essendo che sono fuori dal canarmato la tiene anche go le fiamme ossidriche vabbè una la tengo io nel caso sai cosa magli io cambiato idea io vi faccio il no no raga ma che cazzo fate non sbaccatemi il mio camion il camion esclusivo basta che in tutto sto isis guarda che bello guarda che bello magli non lo voleste vedere anche nella vita reale un camion giro minchia no oh cazzo bot di merda ci sparano da tutti lati no è il bot arco caro qua da me ce n'è uno è lontano è lontano prova tattica di una roba che cazzo di schiaccia questo no vabbè chi dopo qualcuno deve zuppa porta le cure raga io porto mitragliette revolver sono un generale io ok dopo la ricaricchiamo questo io vado quello che vado avanti e guarda come è lì oh la voglio prendere io ho un rilevatore io porto la benza ok io sono pieno di te se ti faccio un assalto blu mi farà dolore il mio è diventato un monster truck raga il mio è diventato un monster truck raga il mio è diventato un monster truck si si mi va bene qualche cosa raga il mio è un monster truck vi dico il mio è un fucking monster truck raga andiamo al salite dimmi secondo me è un monster truck eh si si su ma andiamo un attimo al benzinaio toglitelo dai guarda seguitemi seguitemi che io vengo più veloci non tantissimo te che ci devi fare da scuola eh che cazzo mi sto sparando però eh anche noi stai sparando su fa guida tu va vedi io sono una guidatrice del gruppo vai al benzinaio così ricarichiamo tutto quello che ci serve allora mi serve una roba raga mi serve quello che mi tiene le bombe la sei? se vuoi ti tengo le granate la tengo io ma devi cercare di aviazionarmele perchè se vado avanti mi faccio saltare in aria eh io ce l'ho sempre pronte buttameli davanti qua sul cofano sono già per farle esplodere vai 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 metti il piccolo no poi non l'ho premuto sono salzata io lo stesso va bene io mi butto addosso la gente senza vabbè no ma non c'è più scosso davanti facciamo benza qualcuno mi fa benza io sono benza fai te benza go ho capito ho capito raga c'è il carabattolo da nomi io vado avanti a vedere se ci sono go stiamo arrivando io ho bisogno del coso davanti ma qui sotto il boschetto sapete come si chiama? no cratere croccante mlem croccante guardiamo tutto guardi quando l'ho scoperto stamattina ero tipo croccante che stamattina? perché stamattina ho giocato non sono andato a scuola stavo male ma te sei un coglione ma dimmi le cose no senti io pensavo ci fossi andato cioè ero andato senti ma fa culo io alle 9 di stamattina ero a farmi i livelli di buono e dimmelo anche tu io non ti vedevo online e anch'io ti vedevo andando io ti ho visto online king verso le 11 io ero dalle 9 si voi non andate a scuola porco care fate schifo senti io ho bisogno di una macchina non ho più motivi per non andare ma l'idea che sabato non ci vai dio bono ma perché king è così in fondo? perché king è stupido è stra... non ho un cazzo per venire da noi come cosa vengo scusa ci attacca l'isis un attimo noi l'isis ci attacca la della nato la nato l'hai nato no 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 che ci si intercchia da me c'era uno qua ehi conti stavo aiutando io eh ho avuto tanto però mi è arrivato addosso il titolo arriva la guanguardia ragazzi arriva la guanguardia arriva la guanguardia arriva la guanguardia arriva la guanguardia lo resto io lo resto io vai eh ma copermi cazzo non si abbandona un soldato non si abbandona un soldato non si abbandona un soldato ma fu porco di... grazie molto gentile su paciente e cura prepara le cure intanto eh infatti ci servono le cure faccio subito io pensavo che tra un po' me lo sento il camion io ho delle granate in funso io mi servono delle barriere principalmente perché con quelle vado avanti però non... sei curato il sistema di car armato stavo già pensando di fare però non... il car armato ci cuccia come la duemila eh giustamente io ti credo la duemila non ci cucciano tanto che vuoi stare eh ne conosco un paio e non scoprono da parecchio figa una tannica ricarica il mezzo carro armato comunque secondo me senza costruire questo gioco è anche bello beh infatti secondo me è molto meglio ma... King si sceglie tutti eh si ma in realtà io vado alla sola giro poi fare una moda di tappate senza costruzioni che ci sta secondo me io giocherò in pratica solo così perchè è bellissimo pronto Gabri? si gli sparo agente sinistra ma che ne sono di duemila ma che ne sono di duemila? non lo so è perfettiva mamma morto che bella ero io ho 50 solo di scudo e basta scroccantissima no! go a terra qualcuno arriva arriva madonna lo haro go a dire si 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 lo so ma ora prendi il me di nebbia te lo porto quello scudo è di troppo però va bene ragazzi sono in bagno da me sono un boccio di spari io voglio scombattere non venite da me ragazzi dobbiamo andare da king subito eh Gabri prenditi questo sei spazio sul tiri civile è più di gente tiratemi anzi ce l'ho king c'è ci sarebbe lo scudo ma al di fine puoi stare con me dirisibile va bene arrivo eh no perchè è sopra non puoi andarci con il carro armato sopra ma io mi avvicino eccolo come scendono sono un po' rallentatore io bono lo vado a prendere non scende vado a prendere è sceso è morto oh c'è la hop della slow è morto è morto è morto è morto bene stavo per andare alla prendere eh io stavo salendo giù quello li e mi vuole un bordello eh dobbiamo andare in no 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 sono corretta te lo lascio qui da tranquillo oh 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 no vai gabry spara guerra si ma si rompì i magli per che cazzo figa la sandetta è smirata come l'ele e vabbè io sono finita e vabbè e vabbè 100 minuti sugli alberi ahahah bellissima che goduria secondo vittoria che è stato il carro armato eh ahahah è troppo divertente usare il carro armato dai